Tornano gli Open Day presso il centro vaccinale città di Agropoli. Dalla prossima settimana, infatti il martedì e il venerdì, dalle ore 16 alle 19, sarà possibile sottoporsi all'inoculazione di prime, seconde e terze dosi Pfizer o Moderna. La scelta di ripristinare gli Open Day è stata concordata tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola e i responsabili del distretto sanitario, essendo venute meno quelle condizioni che potevano determinare code e assembramenti. Attualmente ad Agropoli l'82% dei cittadini ha ricevuto la prima dose di vaccino, il 72% la seconda e il 60% la terza. Dalla prossima settimana abbiamo concordato di riprendere gli Open Day, ha spiegato il sindaco Adamo Coppola, il sistema delle convocazioni proseguirà ma i cittadini potranno sottoporsi all'inoculazione del vaccino anche presentandosi direttamente al centro vaccinale. Abbiamo raggiunto risultati importanti con la campagna di vaccinazioni, dunque non c'è più il rischio che si creino quei disagi che ci avevano costretto a sospendere l'accesso libero al centro di Via Taverne. Una scelta che si è rilevata vincente ed è stata seguita da quasi tutti i comuni del comprensorio, aggiunge il primo cittadino. Un primo esperimento è stato già fatto lunedì 31 gennaio ed ha confermato la totale assenza di problemi per l'utenza. Ringrazio il personale dell'ASRA e i nostri volontari per lo straordinario lavoro che hanno fatto finora e continueranno a fare presso il centro vaccinale e anche grazie a loro se la curva dei contagi è in calo da una settimana nella nostra città, conclude il sindaco Coppola.